Ciao, mi chiamo Silvana Bonomo, vivo in Inghilterra da vent'anni ma sono sarda. Io da bambina ho sempre avuto un sacco di problemi con i denti. Avevo i quattro denti davanti, frontali, completamente in fuori, quindi non sorridevo più. Avevo un problema gravissimo di occlusione e così ho trovato SOS Turismo Dentale. Li ho contattati. L'anno scorso sono arrivata qua in Moldavia e ho iniziato il primo trattamento, quindi ho tolto i quattro denti davanti, ho fatto due impianti e poi la mia arcata inferiore erano molto storti, avevo comunque appunto un grave problema di occlusione e ho deciso di mettere delle faccette per comunque rendere il sorriso, finalmente, un bel sorriso. Mi sono trovata benissimo, sono tutte persone stupende, dalle persone della logistica, tutti i ragazzi sono strepitosi. Un po' di paura sì, però il traguardo è comunque un traguardo bello perché appunto uno può sorridere bene, può masticare bene, senza nessun problema. Io li ringrazio tutti, tutti quanti perché sono stati splendidi. Dottor Julian Gietzu con Elena sono dei grandissimi professionisti, sono persone molto umane, ti chiedono sempre come stai. Sono veramente delle bravissime persone e poi insomma sorridere è la cosa più bella, quindi continueremo a sorridere, adesso sorrideremo ancora di più. Io sono stata in Italia, quando ero ragazzina avevo messo un apparecchio dentale e all'inizio sembrava che le cose insomma, che i denti comunque fossero tutti tornati, insomma fossero dritti, soprattutto i quattro denti davanti fossero tornati indietro, se non che a distanza probabilmente di tre anni hanno iniziato di nuovo a sporgere e anche i denti comunque dell'arcata inferiore si sono di nuovo sovrapposti. Poi una volta che io mi sono trasferita in Inghilterra ho rimesso nuovamente l'apparecchio, però con lo stesso risultato fondamentalmente, poi comunque i denti si spostavano in continuazione, l'occlusione era completamente sbagliata. Prima di venire qua avevo chiesto probabilmente due o tre preventivi e tutti e tre preventivi erano diversi, tutti e tre i dentisti che io avevo contattato mi proponevano cose diverse l'uno dall'altro, quindi io non... Allora uno, il primo mi ha proposto di toglierli tutti e di fare... due oltre i denti? All on four, si, sopra e sotto. Una cosa indicibile perché comunque erano i miei denti, cioè i miei denti ce li avevo, quelli di sotto e anche gli altri erano abbastanza sani. Un altro mi disse che dovevo rimettere l'apparecchio per la terza volta e quello lo scartai a priori perché non esisteva. Cioè rimettere l'apparecchio nuovamente per poi avere di nuovo gli stessi problemi. Il terzo mi propose degli impianti, però invece che quattro denti mi hanno fatto quattro denti davanti con due impianti che sono premium e poi gli altri denti sono i miei, quindi ho solo le faccette sui miei denti ed è una cosa ottima perché comunque continuo ad avere i miei denti e poi con le faccette Dottor Julian ha potuto giocare un po' con l'occlusione, quindi adesso ho un'occlusione ottima. Come ti senti ora? Benissimo, 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 benissimo.